Ok, salve a tutti, sono Danny BlueFox e in questo video vi vorrei parlare di Prototype 2 Un gioco che ci ha messo veramente poco tempo a quasi riuscire a far, diciamo, rivalutare la saga di Prototype La saga tra virgolette perché ho dovuto solo due giochi La saga di Prototype perché io ho giocato all'1 e non mi è piaciuto minimamente, non è proprio piaciuto l'1 Vevo di essere sincero, la storia era banale I nemici erano sempre quelli Il gioco era troppo facile Volendo che i trofei, anche se è una cosa minima, erano una roba da spararsi in bocca Perché ti chieda, finisce il gioco, è difficile, senza consumare nessuno, senza ormai morire, bla 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 E generalmente mi è sembrato sempre un Infamous per i bimbi minchia, sostanzialmente Proprio in breve, proprio tradotta in parole povere Perché ovviamente Infamous aveva tutta la storia, tutta la faccenda del karma Ma tutto quanto Prototype aveva, però io sono figo, sono copiato da Assassin's Creed E adesso vado in giro, ho i superpoteri e spacco tutto Che, vabbè, è più un divertimento diciamo alla GTA San Andreas È più un gioco che lo prendi, ci casseggi dieci minuti e poi lo rimetti via Che, per dire, è bellino Ma non è neanche lontanamente paragonalmente infamous E l'uno infatti di Prototype 1 non mi è piaciuto Prototype 2 Ha iniziato, diciamo, ha iniziato ad avere Diciamo Una trama Abbastanza vincente, volendo Un protagonista che, cazzo Non è Ezio incazzato Cioè è incazzato anche il protagonista Ma almeno ha una storia dietro, ha un motivo per cui combatte Non è voglio scoprire il passato per tutto il gioco Ha le palle di affronteggiare il suo capo Ovviamente non, c'è scritto finale sul titolo, eh Non, non state lì a dire Eh, mi ha rovinato il finale Il finale lo dico qua Cioè, non cominciate a dire Mi hai fatto l'anticipazione, io volevo giocarlo No, 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 no No, il finale qui, questo video lo dico E, veramente, se volete giocare il gioco Chiudete il video qua Perché non c'è motivo per cui abbiate bisogno di Sapere il finale prima Ho detto, dirò il finale di questo video Chiudete il video qua Se non avete ancora giocato Quindi Prototype 2 Aveva una bella storia Un protagonista abbastanza figo Al di là del fatto che magari non sia bello quanto il primo Quanto quello del primo Perché è meno copiato da Altair, francamente E Niente Ha un sacco di poteri anche lui Però sono meglio calibrati, in realtà Cioè, sono fatti meglio come poteri Sono molto simili a quelli dell'Uno Però Sono più interessanti Come quelli potrei chiamare Le bestie Eccetera E poi C'è una grande varietà di nemici Ci sono un sacco di missioni E Un sacco di missioni diverse Insomma Le secondarie Anche se dopo un po' Capisci che fa sempre quelle Ma è un problema Diciamo di un pochino Tutti i giochi A mondo aperto Così No Quindi alla fine Non è che Sia un problema così grave E Generalmente è un bel gioco Avvincente È gestito bene sia per i filmati Per la Diciamo La regolarità dei filmati Che per i colpi di scena Eccetera Eccetera Ma Mentre sul punto di rire Cazzo Questo gioco è bello Questo gioco È migliorato tantissimo Dopo 3 e 2 Non lo metto a livello di infamous 2 Ma quasi dell'uno Aaaaa Raggiungo la fine del gioco Molto prima di quanto mi aspettassi Perché è durato veramente poco il gioco E Il finale fa schifo Al di là del finale Anche il boss finale fa schifo Perché ti buttano Affronta Alex Mercer In tutto Tutti i sponsor Tutte le pubblicità Anche nella copertina stessa C'è scritto in grande Affronta Alex Mercer Nello scontro finale Peccato che lo scontro finale Sia tipo Ho iniziato a t'attacca Premiare 1 Quadrato 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 Un'altra volta a t'attacca Premiare 1 Quadrato 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 Che vabbè Tu dici gioco in modo palloso No è l'unico modo per affrontarlo Perché se tu puoi usare un'altra arma Ti dice no Questa la uso io Grazie E quindi Beh Vabbè Sia la lama comunque Le altre le puoi usare Ma bene o male È sempre così Ti ripari lo attacchi Ti ripari lo attacchi Ti ripari lo attacchi Fino a che non vedi gli ultimi Quick time event Insomma i filmati Diciamo Interattivi Uccidi Alex Mercer Che vabbè È bello il filmato Il filmato pieno della battaglia È bellino Perché assorbe tutti Tipo Super Saiyan God No Che assorbe 5 alleati Lì E diventa uno solo Fortissimo Eccetera Niente Lo affronti Lo uccidi In pochissimo tempo In maniera anche abbastanza facile L'ho giocato in difficile E sì È facile Anche difficile Non l'ho giocato in folle Ma è difficile E facile E poi il filmato finale Che è la cosa più prevedibile Del mondo Lì Il nostro protagonista Eller Ritrova la figlia Sono lì assieme No Allora assorbe tutti I I cosi Gli infetti Che quelli Non è tanto prevedibile Ma vabbè E Poi Vabbè assorbe consuma Poi ritrova la figlia La figlia è spaventata Dietro a Dana Mercer E dopo vabbè La figlia lo abbraccia comunque E Dana Mercer E ora che facciamo Fine del gioco A parte che il boss finale È stato deludente Proprio tutto il gioco Ti aspetti Alex Mercer Il boss finale E poi Pah Lo batti in meno tempo Di quanto ci ha messo A battere I cosi I nemici I random Che trovi nel gioco I cosi Gli infetti Trovi gli infetti Che hanno delle armi Al posto del braccio Così Ci ho messo Più tempo A fronteggiare loro Che a fronteggiare il boss finale E questo qui Già è grave Poi Scusami Il filmato finale È fatto tutti i filmati belli Fino a mo Questo qui È Vabbè È realizzato bene Quanto vuoi Così Però C'è A parte il fatto Che assorbe tutti lì Che ha un mezzo colpo di scena E ora che facciamo E ora che vuoi fare Ma hai dato un finale di merda Cosa vuoi fare I nostri titoli di coda Ora non voglio dire Che C'è Il finale Effettivamente Dalla storia che avevi Potrebbe essere migliore Io voglio dire Che potrebbe essere Infinitamente migliore Perché appunto C'è Dai Facciamo La somma di tutto Devi fronteggiare un cattivo Alex Mercer Che è Il Come si può dire L'infetto più potente E tu l'unica cosa Che dà Una piccola trasformazione Alle braccia Con i tentacoli Al posto delle mani Perché ha assorbito Quattro infetti di fianco E fine Non potrei farlo diventare Un solo gigantesco Fai più trasformazioni O almeno Almeno Farlo più difficile Farlo durare di più No Troppo difficile come cosa Poi Finisce Che Non c'è nessun colpo di scena Quasi A parte quello lì Che ho già detto mille volte E Niente Dana Mercer dice Ora che facciamo Proprio è uno di quei finali Che ti dà Senza segnalare Quel senso di Ti vuoto dentro Insomma Proprio quel senso di Cazzo Sto gioco Hai pensato fino a quel momento Di che il gioco è bello E in quel momento Di che lo finisci Cazzo Sto gioco è una merda Ma Così proprio Proprio così Perché I finali in Famous 2 Per fare un esempio Insomma Che sia sempre Che sia il buono O il cattivo Sono finali pieni Di colpi di scena Di emozioni Di E soddisfacenza Ti fa capire Che quello che hai fatto Fino adesso È Servito a qualcosa Nel bene o nel male In finale Il poto 2 Ti dice Paff Hai fatto ciò che dovevi fare Sì in all'inizio del gioco Bravo Punto Così Ovviamente Eller Cioè Chi si è in culo Del virus Chi si è in culo Della Blackwatch Che non si è da fare Bordello Chi si è in culo Di tutti i macelli Che sono nella città Tanto Lui ha ritrovato Sua figlia E non gli frega Più un cazzo Di nulla Ok Quindi il gioco Tutto il gioco Cioè Per tutto il gioco Tu affronti eserciti Papà Gente che sta male Così E poi Chi se ne fotte di loro Io voglio solo mia figlia Appena la trovo Fa un culo Il resto del gioco Il resto del mondo E ti fa sentire E ti fa sentire Tipo Nell'importanza Di una scatola Insomma In quel gioco Lì Perché Non mi frega un cazzo Di tutti gli altri Va bene Però Mi hanno sempre insegnato Che nei giochi Anche se l'unica cosa Ti frega Di fare i cazzi Tuoi così Poi dopo ti ricredi Ho tanti poteri Potrei fare qualcosa Per gli altri E facciamo qualcosa Per gli altri Bene o male Potremmo fare anche così Invece C'è quel finale Di Di merda A me non mi frega un cazzo Se tutti gli altri Stanno morendo Io so Mia figlia Paff Finita Poi Cosa è successo E Che bene o male Il finale Di Prototype 2 Mi ha ricordato molto Il finale Del primo AIDS Cioè Dell'unico AIDS Che AIDS è un gioco Che Con senno di poi Non è così bello Però al tempo Erano di quei pochissimi giochi Che avevi la possibilità Di giocare con un amico Che il co-op In quel periodo lì E' una cosa rarissima Ne ho trovato anche Solamente lo schermo diviso E' una cosa rarissima Difficilmente potrei trovare Un gioco Che ti permettessi Di giocare in schermo diviso E AIDS Pur non essendo un amante Di sparatutto In prima persona Neanche in terza Francamente Mi piacco abbastanza Lo trovai veramente Un gioco abbastanza divertente Perché lo potrei giocare Appunto con un amico Di fianco Tutto quanto Dall'inizio alla fine C'era una storia Abbastanza vincente Però aveva quel finale Brutto L'unico difetto Era quel finale Che era vuoto Proprio Era un finale Totalmente Insulso Perché la storia in sé E' anche carina E' anti-americana Ti fa capire Che la guerra Non è bella Come fanno Call of Duty O chiunque altro Perché Call of Duty È sempre La guerra è bella Arruolati Che fa tutto il tempo Così Perché Perché Probabilmente Sono finanziate Anche Da qualcuno Su Che dice Fate il gioco Che sia bello Per la guerra Così Chiamiamo un pochino Di soldati Così Perché Invece Aids Faceva il contrario Del messaggio Che la guerra È brutta Che i soldati Gli americani Sono Bene o male All'ignaro Di quel che fanno In realtà E che li autoconvincono Di essere degli eroi Quando in realtà Non è poi vero E effettivamente Questo è ciò Che insegna Aids Che è un insegnamento Anche un pochino Più veritero Il gioco è passato Molto Sotto Diciamo Perché Così come Sicuramente Accadata Atunfall Dopo tanto Hype Dopo tanto Questo gioco Sarà bellissimo Tanto questo Tanto quello E viene fuori il gioco È in sub hd La grafica È La storia È L'online È ok Però vabbè Così Titanfall Che adesso Esce esclusiva Xbox Che a quanto pare Da Sony Sta comprando i diritti E quindi Sicuramente Scerà anche Superstation 4 Superstation 3 Hanno già detto Che sarà in In 720p Tipo Una roba del genere Sarà tipo Non sarà in full hd E Questo Mi ricorda molto Aids Per dire Comunque Trasciando Titanfall Che è un gioco Che non mi tessa Minimamente Perché sia online Che Prima persona Che spara tutto No Non fa per me Ma torniamo A Prototype 2 Prototype 2 Ha lo stesso finale Vuoto Proprio Tagliato Puff Che il gioco è finito qua Bravo Così Che ha Aids E sono quei finali Che non ti danno nulla Anche la Titanfall 2 Aveva un finale Più o meno così Cioè Ha fatto meglio In realtà La Titanfall 2 Però Boh Ti lasciavo molto Molto vuoto Dentro Una volta finito il gioco Era un po' più Ma Invece gli altri Ti dà più soddisfazione Insomma Niente Prototype 2 È un gioco che Sono quasi riuscito Ad apprezzare Fino in fondo Quasi Appunto Per colpa di un finale Un finale Che a mio parere Ha rovinato Tutta l'esperienza di gioco Tutta quanta Tutte le ore Che ho giocato Che sono state Non tante Però vabbè Tutto il tempo Che ho giocato a Prototype 2 È stata rovinata Da un finale Perché il gioco Durava un cazzo E il finale Ti dice Bravo Hai fatto un cazzo Per tutto il gioco Punto E non ti dà soddisfazione Non ti dà nulla E questo è un classico esempio Come con Aids Dico Ma un finale brutto Veramente Impegnatevi a fare i finali Se c'è un giulpatore italiano Mi sta ascoltando Impegnatevi a fare i finali Perché Se veramente ce ne sono Però Fatevi i finali belli Perché Sono ciò Che danno al giocatore Quella sensazione Di aver giocato Un gioco bello Proprio finisci il gioco Dici Ah cazzo Questo sì che è un bel gioco Anche se magari È un gioco così Cos'ha Così Però è un bel finale Quel giocatore Il giocatore Su quel momento lì Dice Ah cazzo È un bel gioco questo Perché per dire Vabbè Prendo un esempio di un gioco bello Ma è un esempio comunque Crash 3 Quando finiti il gioco di Crash 3 Il finale è corto Ma nel finale Però il vero finale Quando prendi tutti De gemme Tutti i cristalli Tutte le riqui Il vero finale Ti dà una soddisfazione Alla fine Perché Hai faticato Ti sei impegnato Ti hai preso tutte le riqui E hai fatto una fatica boia Perché è un gioco Anche abbastanza Non tanto Però Quel po' è difficile E hai un finale Effettivamente Che ti dà soddisfazione Anche se è corto Anche se non c'è poi tanto C'è quel corpo di scena Simpatico Che non sto a dire Perché magari qualcuno Ha giocato a Crash 3 Che ti fa Sorridere E ti dice Cazzo Questo qua è un bel gioco Mi è piaciuto Mi sono divertito E Cosa che ProTap 2 Non fa Neanche Ace fanno Quindi veramente Se fate un gioco Dovete pensare un finale Fate qualcosa che sia Dovete pensare un finale Per forza Se dovete fare un gioco Quello che non fate Tipo arcade Che vai avanti Fino a Che non muori Veramente Se dovete fare un gioco Fate un finale bello Che dia soddisfazione Non un finale che Paff Fitto il gioco Bravo Qui è Danny Blue Fox Spero che vi sia piaciuto Questo Piccolo sfogo E Ci sentiamo Al prossimo video Ditemi cosa ne pensate In commenti Ditemi se c'è qualche finale Che vi è piaciuto molto Di qualche videogioco O vi è deluso E alla prossima Ciao